Andreas Müller e Veronica Peparini sono tornati a casa con le loro gemelline. Dopo il parto cesareo per Veronica era necessario qualche giorno di riposo in più in ospedale anche per controllare le condizioni di salute di Penelope e Ginevra. Fatti tutti gli esami i quattro sono finalmente rincasati e ad aspettarli c'era una bellissima festa a sorpresa. Palloncini a forma di cicogna, biscotti e cupcake rosa, caramelle, confetti e anche un cartellone con scritto Benvenute Ginevra e Penelope. Tutto ciò è stato mostrato da Andreas Müller in una storia Instagram che è stata poi seguita da una foto di un baby monitor posizionato sul comodino e che i genitori utilizzeranno per tenere sott'occhio le due bambine. Quando ha partorito ballerina, 25 anni più grande del compagno, era alla fine dell'ottavo mese. Per lei si è trattata della terza gravidanza, è già mamma di due bambini nati dal suo precedente matrimonio, e non è stato tutto semplicissimo. Fin dai primi mesi Veronica e Andreas hanno dovuto fare i conti con una gravidanza gemellare monocoriale biognotica, sono stati moltissimi i controlli e le preoccupazioni, ma tutto è andato per il meglio. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.